Io sono Prascio Lunnino, sono nato a Orroli, è un paese del Sarcidano. Sono venuto qua in Moldavia perché avevo un problema in bocca, un problema dei denti, una masticazione errata. Io sono venuto qua sia per mettermi a posto tutto quello che riguarda la bocca e quindi ci è voluta una pazienza da matti perché me li hanno fatti perfetti. Hanno cominciato da vicino alla radice a salire a Cuneo e mi sono meravigliato quando il lavoro era finito, da quanta professione c'era. Vedo gente che viene qua purtroppo con tanti problemi dentali e che se ne va con denti finiti con un bel sorriso, un altro aspetto facciale, fisico diciamo. E con questo, torno a dire, qua si lavora veramente seri e bene. Devo dire che dal momento che ho incontrato il dottor Palmas nelle sue presentazioni anche a internet mi sono trovato subito bene e ho detto che questo secondo me è il prodotto che va bene a me. Io mi sono trovato bene, benissimo. Come ho detto nell'intervista, persone favolose, tranquille, professionali, igiene a tutto spiano. Io mi sono trovato da Dio, ecco. Penso che sia la parola massima, quasi che si spera in un creatore che cambierà il mondo nel bene. Va bene, ma comunque io dico la verità, premetto, che questo non è pubblicità forzata. Cioè io questo lo dico e lo dico col cuore.